Quella di Montemesola è una comunità sensibile, solidale, con chi è in difficoltà, lo ha sempre dimostrato e continua a farlo. Questa volta, a beneficiare della sua generosità, è stata l'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia. La comunità ha consegnato all'Agitoe le somme raccolte durante il periodo natalizio, affinché siano devolute al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. L'assegno che comprende tutte le donazioni, che è davvero molto, molto generoso, noi neanche ci aspettavamo una così grande partecipazione, sarà donato all'Associazione dei Genitori di Taranto. 4.800 euro la somma raccolta, frutto dello straordinario impegno delle associazioni presenti sul territorio, che hanno organizzato gli eventi patrocinati dall'amministrazione comunale, durante i quali promuovere la raccolta fondi. Tutte le associazioni che hanno partecipato e che ringraziamo ovviamente per tutto quello che hanno fatto, non abbiamo veramente parole per dire quanto sono stati a sostegno di questa iniziativa strepitosa, e a tutti i cittadini che hanno contribuito dando un qualsiasi contributo a sostegno del reparto di oncoematologia pediatrica dell'E Santissima Annunziata di Taranto.